e bentornati ragazzi su questo nuovo video oggi vi picchio questa sbarra servirà proprio per questo no allora voglio semplicemente fare un piccolo aggiornamento sulla scrivania vi ricorderete normalmente il mio set video è composto da delle luci colorate proprio sopra o dietro i monitor dove lavoro normalmente in ufficio beh ste strisce hanno fatto abbastanza la loro vita hanno iniziato a cambiare colore essere meno potenti alcune sono proprio saltate c'erano dei led che proprio non si accendevano neanche più e quindi ho detto boh smonto tutto rifaccio la cosa un pochino come si deve e utilizzo questa volta queste strisce led sono le strisce led tp link tapo sono direttamente smart quindi hanno direttamente il loro controller a bordo e teoricamente dovrebbero funzionare decisamente meglio rispetto alle strisce che avevo prima perché ho preso queste strisce il motivo principale è che sono uscite scorsa settimana in errore sul nostro canale technology sales canale telegram dove trovate tantissimi sconti riguardante la tecnologia quindi se non siete ancora iscritti correte immediatamente su telegram e non perdete neanche voi le offerte riguardante proprio tutto il mondo tech tra l'altro se avete invece voglia di trovare offerte che riguardano la casa la vita di ogni giorno potete iscrivervi anche al secondo canale che è proprio home track now anche questo su telegram anche questo completamente gratuito tutti i giorni tantissime offerte per risparmiare qualche soldino ma detto questo a parte ovviamente aver ritrovato in offerte quindi detto beh a sto punto le compro perché già pensavo di cambiarle non avevo voglia però di spendere troppi soldi sinceramente un abbellimento set che potevo anche farne a meno le ho trovate in offerta allora le ho prese il secondo motivo per cui ho deciso di prenderle è perché avevo bisogno di un apparecchio in più smart da poter testare con home assistant chi già mi segue su instagram da tempo sa che sto facendo diversi esperimenti con tutto il mondo di home assistant e quindi presto cercherò proprio di portarvi dei video che vi fanno vedere le varie configurazioni ma non solo soprattutto le potenzialità immense di questo grandissimo strumento perché puoi fare veramente tanto 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 ti ricordo che se non sei ancora iscritto ti puoi iscrivere al secondo canale dove parlo prettamente di sicurezza ed elettronica che è chiamato proprio picco fabrizio trovi link in descrizione probabilmente tutta la parte di home assistant la porterò sul secondo canale questo lo devo ancora decidere tu per non sapere leggere iscrivere vai iscriverti anche dall'altra parte cosa voglio fare in questo momento allora prenderò le strisce che sono ovviamente già dotate di adesivo voglio attaccarle su questa barra l di alluminio cercherò di attaccarle sia sopra che sotto teoricamente la lunghezza dovrebbe bastarmi perché la striscia è data per 5 metri dopodiché una volta andata a incollare correttamente sulla barra monterò questa dietro il monitor in modo tale che non si veda niente e la luce dovrebbe arrivare in modo soffuso sia dall'alto che dal basso proprio perché cercherò di fare i due lati delle strisce l'unico dubbio che ho è quando andrò a piegare proprio la striscia led sullo spigolo della barra spero non si rovini però direi non perdiamo altro tempo ci spostiamo in laboratorio e iniziamo a montare questa striscia andiamo allora tutta la barra l'abbiamo riempita ovviamente adesso è da decidere se fare il taglio qui oppure qui io penso che lo farò qua e gli lascerò comunque un led in più qua gli metterò il connettore e vediamo subito se può funzionare oppure no direi iniziamo a rimontarlo dietro i monitor vediamo come connettere il connettore e dopodiché facciamo due prove di configurazione srotolo solo tutta la striscia led che capiamo se dall'altro lato ha un connettore differente o se gli hanno messo semplicemente la connessione da tutti e due i lati allora vi dirò da uno dei due lati non c'è proprio la connessione la striscia deve essere direttamente saldata quindi riarrotoliamo la parte in più in eccesso e lo tagliamo dove abbiamo detto prima facciamo subito la prova magari facciamo la prova prima di collegare tutto facciamo le configurazioni ed è se funziona tutto allora poi lo montiamo taglio proprio sulla giunzione dell'eventuale saldatura perfetto allora in dotazione della striscia led cioè il controller smart dove abbiamo il connettore di alimentazione che lo faccio vedere mentre invece dal lato opposto abbiamo proprio il connettorino che si va a infilare direttamente sulla striscia led ovviamente l'alimentatorino 12 volte è in dotazione con la confezione non ci resta allora che collegare il nostro alimentatore alla corrente lo andiamo ad inserire proprio all'interno del nostro controller smart dopodiché proviamo a installare l'applicazione e vediamo che tutto funzioni la striscia di per sé sembra accendersi però con il bottoncino direttamente non è che riesci a fare grosse cose si la accendi la spegni fa sto effetto del cavolo direi ci spostiamo sull'app e proviamo a fare la configurazione ovviamente come sempre vi faccio vedere adesso passo passo quello che dovete fare per andare a fare la configurazione di questa striscia led innanzitutto in confezione trovate libretto delle istruzioni col qr code se lo scansionate vi farà scaricare direttamente l'app che vi servirà per la vostra versione di telefono la scaricate la aprite nel caso di ios vi dirà che dovete autorizzare necessariamente l'accesso alla rete locale se non l'avete fatto andate su impostazioni e fatelo se no cliccate ho già concesso l'autorizzazione come nel mio caso accettate i termini e le condizioni il primo io non lo seleziono è il primissimo passo che dovete fare andare a creare un id tp link ed eccoci qua proprio all'interno dell'applicazione dopo aver effettuato il login all'account appena creato non dobbiamo fare altro che schiacciare sul pulsantino più in alto a destra aggiungiamo dispositivo ci ridice di dare le autorizzazioni scegliamo proprio luci la nostra striscia led è la tapo 900 ci ricorda di connettere tutte le parti che abbiamo già connesso in precedenza mi raccomando attenzione quando le connettete che le due freccette siano che si toccano non invertitele perché sennò rischiate di bruciare la striscia led fate avanti dice di aspettare 15 secondi fino a che la striscia lampeggia in arancione verde verde arancione direi che sta funzionando gli diciamo il led è arancione verde qui ci chiede di consentire la posizione ditegli di sì quando utilizzate l'app perché sennò potrebbe non funzionare ci chiede di connetterci al wifi che genera la striscia led lo facciamo immediatamente una volta connesso a quel wifi lui cerca in automatico la striscia led e l'abbina come potete vedere vi dice che l'ha trovato e adesso cercherà di connettere il wifi quale wifi quello che gli andrete a dire voi in questo momento mi raccomando deve essere un wifi 24 con 5 gigahertz non dovrebbe proprio funzionare o se funziona potrebbe creare dei problemi una volta che fate avanti lui cerca di accoppiare la rete wifi proprio al dispositivo e da quel momento in poi sarà connessa a quella rete gli date il nome al dispositivo nel mio caso visto che la dobbiamo mettere dietro il monitor la chiamerò proprio luci monitor mettete la posizione io metto ufficio scegliete l'icona per la striscia e adesso vi chiederà di fare proprio la verifica del firmware del vostro controller io vi consiglio fatela anche perché aggiornerà l'ultimo firmware se ce n'è uno più recente rispetto a quello che avete come nel mio caso fate aggiorno adesso lui installerà proprio l'aggiornamento in modo automatico in modo tale da farvi avere sempre e comunque tutte le nuove funzionalità che ha proprio la striscia led perfetto procedura completata la striscia led è correttamente illuminata adesso ve la faccio vedere e clicchiamo fatto per adesso e vediamo proprio la fantastica interfaccia del nostro dispositivo come puoi vedere hai l'icona proprio della striscia per accendere spegnere così la intravedi meglio vedi anche la mia faccia completamente abbagliata se clicchiamo semplicemente sul pulsante di accensione lui si spegne se invece entriamo dentro l'icona della striscia possiamo andare a decidere tutto quello che vogliamo ovviamente la accendiamo e poi possiamo andare a personalizzare i vari colori e facciamo la discoteca perfetto configurazione e montaggio sulla barra l'abbiamo fatto adesso sarà un bel casino facciamo tutto quello che dobbiamo fare dietro i monitor non so se riuscirete a vedere qualcosa perché già c'è casino sulla scrivania in più ho due monitor che sembrano delle case di conseguenza vediamo se riusciamo a montare tutto e poi vediamo insieme l'effetto finale della striscia led prima di continuare però ti chiedo like al video se ti è piaciuto e siete stato utile fino a questo momento iscriviti al canale e iscriviti soprattutto ai nostri canali offerte che dicevamo all'inizio in più se vuoi venirmi a trovare anche sui canali social fallo tranquillamente perché mi trovi anche lì per altri video altre cose vienimi a trovare e vedrai tu stesso adesso spostiamoci e iniziamo questo enorme casino allora prima di tutto stacchiamo alimentazione stacchiamo il controller andiamo a posizionare con molta calma la nostra barra led la facciamo passare qui sotto perfetto la appoggiamo un secondo alle due staffe abbiamo già pronte le nostre viti avevo già forato in precedenza come puoi vedere c'è giusto qualche cavettino qui dietro allora i cavettini li ho collegati volanti poi li farò passare sotto la schivania e tutte le storie ma vediamo cosa succede adesso che accendiamo la nostra striscia led accensione boom ovviamente possiamo andare a cambiare il nostro colore io penso che lo terrò come sempre sull'azzurro perché il colore che mi piace di più nei video devo dire l'effetto mi piace molto sono un po più potenti rispetto a quelle che avevo prima lo si nota anche penso dal video perché guardando lo schermetto mi sembra che faccia molto più luce anche come effetto è molto carino l'interfaccia che ha ovviamente possiamo andare a diminuire anche l'intensità della luce se la vogliamo più bassa prima la stavamo utilizzando al 100% questo ad esempio è il 17% rispariamola al massimo io la terrò così e poi potete andare anche a modificare proprio la singola tonalità della luce scegliendo proprio sulla sulla tavolozza grafica dove avete praticamente tutti i colori anche questo azzurro non è niente male poi ovviamente ci sono i vari effetti come ad esempio far muovere le luci a effetto di musica prova ad attivarlo attiviamo un suono no copyright se no youtube mi banna spettacolo volendo potete anche andare a scegliere un singolo colore o semplicemente una singola modalità di luce devo dire non è niente male pensavo funzionarsi anche con il parlato prova 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 invece non ce la fa e lui vuole proprio una musica un ritmo per cui muoversi bello molto molto carino e se ovviamente non volete utilizzare le funzioni effetti a suono di musica potete anche semplicemente andarli a richiamare come in questo caso aurora e vedete che lei inizierà a fare proprio l'effetto della luce dell'aurora oppure calderone ribollente che caspita di effetto è calderone ribollente comunque inizierà a fare un altro effetto rimettiamo luce singola e diamo qualche piccola considerazione su questa striscia led devo dirti che la striscia mi piace parecchio ha una bella luce ha una bella luminosità ma soprattutto anche dei bei colori cosa che non è da tutte le strisce ne ho provate veramente tante e spesso e volentieri i colori sono completamente sfasati rispetto a quelli richiesti e soprattutto come ti dicevo prima in pochissimo tempo tendono poi a dissolvere la colorazione bruciare il singolo led o bruciare uno degli effetti colorati dei led cioè praticamente magari scegli blu e lui su quel singolo led ti fa uscire il giallo per dire cioè cose del genere questa sembra di buona fattura te lo dirò ovviamente nei prossimi giorni dopo che la utilizzerò un po però devo dire niente male ho trovato un difetto questo sì non mi piace il tipo di connettore tra striscia e proprio il suo controller potevano tranquillamente attaccarvi come nella maggior parte delle strisce led un pezzo di cavo e non mettere il connettore direttamente saldato sulla striscia è scomodo da inserire ho fatto veramente fatica avendolo dietro i monitor con poca luce non riuscivo a innestarlo anzi rischi molto facilmente di piegare quelli che sono i piedini proprio lato controllore niente di che se devo trovare un appunto su questa striscia è questa qui se ti interessa il modello specifico di striscia comunque te li metto il link sotto in descrizione acquistando dal mio link ovviamente mi puoi dare una mano mi aiuti perché a te non costa nulla costa assolutamente uguale comprare da amazon a me arriva una piccolissima percentuale sull'acquisto quindi sicuramente puoi aiutarmi a supportare il canale detto questo nei prossimi video se riuscirò a configurarlo con obassistant ti farò vedere quello che puoi fare anche tramite questo strumento perché ti assicuro che puoi fare veramente tante tante cose e far utilizzare anche questa striscia in maniera molto particolare in base a degli eventi che succedono detto questo ti saluto ci vediamo prestissimo in un nuovo video e ciao ciao